...Shevchenko, restando nella posizione che gli ha indicato prima Capello. Nedved riesce nell'anticipo, c'è un'entrata dura, si prosegue però per il vantaggio perché c'è Del Piero che è il trenare di rigore, Del Piero salta Gattuso, poi prova a mettere a centro, non ce la fa ancora, Del Piero per Treseghe! Davi! Treseghe, 1-0, Marchekroski Del Piero! Pensavo avesse perso il tempo Del Piero perché poteva calciare il giro di destra, è rientrato, è stato rimpallato il tiro e poi si è inventato questa rovesciata. Qui Dida non ha trovato il tempo perché Treseghe è molto bravo nell'area piccola ad anticipare di destra e a mettere dentro questa palla. Incredibile Treseghe, rientra con il Real Madrid, 20 minuti gol, rientra contro il Milan, 27 minuti gol. Il 50 del Piero qui, grande rovesciata, Valdini si è staccato un attimo dalla marcatura di Treseghe perché gli era partito alle spalle camoranesi, mi sembra, che qui stanno secondo me non era lui in posizione. Bisogna dire una cosa, si è scritto e si è detto molto su Del Piero, nelle partite che contano...